Benvenuti nel mondo degli orologi Orfina Orfina vanta una ricca storia nel mondo dell'orologeria di lusso, nota per la sua gamma Porsche Design. Fondata nel cuore delle Alpi svizzere, nel 1922. Nel corso degli anni, ha guadagnato fama, grazie alla sua dedizione all'artigianalità, alla precisione e all'eleganza senza tempo. Uno dei tratti distintivi di Orfina è la sua meticolosa attenzione ai dettagli artigianali. Ogni orologio è realizzato da esperti orologiai che impiegano anni di esperienza per creare opere d'arte che trascendono il semplice strumento di misurazione del tempo. L'uso di materiali pregiati, come l'acciaio inossidabile di alta qualità e i cristalli zaffiro, conferisce agli orologi Orfina una durata eccezionale. Nonostante la profonda radice nella tradizione, Orfina non teme di abbracciare l'innovazione tecnologica. Attraverso una combinazione di maestria artigianale e avanzate tecniche di ingegneria, i modelli più recenti presentano caratteristiche all'avanguardia, come il movimento al quarzo di precisione e la resistenza all'acqua a profondità impensabili. I prodotti Orfina si distinguono per la loro esclusività e il lusso. Ogni orologio è prodotto in quantità limitate, garantendo che chiunque indossi un'orfina possa sentirsi parte di un club esclusivo. L'attenzione per i dettagli si estende anche ai cinturini, che sono realizzati anche con pellami pregiati e chiusure impeccabili. In un mondo in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, gli orologi Orfina continuano a incantare con la loro fusione di tradizione artigianale e innovazione moderna.